Il Consiglio Comunale torna su piattaforma online, decisione presa dalla Presidenza dopo i contagi di due consiglieri comunali, Paolo Romano e Francesco De Santis, e vari isolamenti. Ad infiammare il dibattito però è ancora la crisi, nata proprio in seno al Consiglio Comunale, dopo l'attacco del capogruppo della Lega Francesco De Santis al Comune, che portò il Sindaco a revocare le deleghe tra i assessori leghisti e poi a farli fuori. Giustino Masciocco di articolo 1 non le manda a dire, chiede al Sindaco di dare qualche spiegazione, come intende andare avanti, visto che per ora non ha sostituito nessuno. Da specificare che la Lega però ha votato compatta in Commissione Territorio provvedimenti urbanistici che però erano stati portati dal loro assessore Daniele Ferella. Il tutto senza che Biondi abbia provveduto ad un rimpasto di giunta, cioè una rivisitazione complessiva dell'esecutivo, e in un contesto cittadino che si inserisce naturalmente nel panorama nazionale, molto delicato dal punto di vista socio-economico, con numero crescente di contagi preoccupanti, come mai se ne erano visti anche nel tempo del lockdown, e con gli effetti che rischiano di ripercuotersi sul tessuto produttivo cittadino. Questo è veramente un atteggiamento irresponsabile da parte di chi ha assunto l'onere del governo e dovrebbe dare quelle risposte che i cittadini purtroppo non vedono e a cui immagino purtroppo neanche sperano più. A rispondere alle critiche è stato direttamente Biondi, che però non si è voluto sbilanciare più di tanto rispetto a quanto scritto in una nota, due parole e basta. La crisi politica, ha voluto ricordare il Sindaco, non si è mai riversata sull'attività della giunta comunale e ha elencato tutto ciò che hanno fatto. Per il resto diversi argomenti all'ordine del giorno, piano commercio, cambi di destinazione d'uso, accordo tra comune e aziende al diritto allo studio per la permuta di alcune aree e varie richieste di privati per ampliamento di una struttura ricettiva e realizzazione di impianti sportivi.